Sì, ma Fra, ma... Cioè, Fra, gira meglio se giochi da Nintendo 3DS Gira molto più fluido se giochi da Nintendo 3DS Gira molto più fluido se giochi da Nintendo 3DS Gira 300 FPS Vai, te l'ho inviato, te l'ho inviato Fra, allora Io ti consiglio di giocare da 3DS, la Play 5 fa cagare Va bene? Venditela, prendite il 3DS Fra, veramente, il 3DS è una bomba Ma non è una bomba, invitami, dai Io posso invitare solo persone che giocano la 3DS, mi spiace Io giocavo la Nintendo 3DS ed era Ultra HD 120Hz Eh, ma sì, ma te l'ho detto io Ma basta che sto mintendo 3DS Io avevo il 2DS, va bene lo stesso No, io c'avevo il 3DS versione limitata E ce l'avevo pure color arancione e merda Di cavallo sterco con pussa di s... Di, di cosa? Si, dico, stupefacenti No Se giocano 3DS Solo se giocare a 3DS Ma che ne so No, ma noi siamo scarsi Sì, siamo problemi Siamo scarsi Eh, ma io Allora, per essere pro player Però uno giocare a 3DS o la vedo dura Perché ti dà troppi vantaggi Perciò ti diciamo Ma sì, ma grava Ma guarda che 3DS è tutta un'altra storia Tutta un'altra storia Lo compro Se non c'è Se non ci gira fortnite Io giuro che via non va Ah, ma grava Ma ci gioca Ci gioca mia cugina La 3DS Guarda che sto giocando io da 3DS Tanto che è potente che esce Ma siete tutti Ma siete tutti Ma siete tutti Ma siete tutti a 3 da piccino Sì, vabbè Sì, vabbè Ma tanto che è potente Che mi esce che sto girando da piccino Perché non giochi la 3DS Se giocavi la 3DS A questa ora vincevi Dai burro Ce la puoi fare Ma la vedo Natura Ah, perché Non c'ho il 3DS Per quello Ma allora Prima dici che sei da 3DS No, no Non c'ho la solda 3DS Ora Ti ho detto che c'è la mia cugina Il 3DS E allora Prendi il 3DS Di tuo cugino Rispondagli alla terra E gioca da PC Oh, Giuseppe Eh, si è morti tutti Copri, copri, copri Eh, burro Non ce la faremo mai Uniti No, non c'è Ma perché non giochiamo la 3DS Capito Orca, tra Ma vai a cagare Ma perché sono tutti giocatori di Nintendo 3DS Questi Te l'ho detto Sono tutti gioco player di 3DS Quindi è normale che ci battono È normale È normale Sono tutti da 3DS Ma non è vero Ma sì Ma non vedi Sopra c'è il codice della Nintendo Fra, ma c'è Micchia Tutti da 3DS sono Tanto che è potente Il Nintendo 3DS Che esce È come un PC Capito Quindi devi prendere Sì, ma non ha lo schermo grande Come un PC Eh, ma infatti Io ce l'ho collegato A uno schermo grande Ma il Nintendo 3DS È così avanzato Che lo puoi collegare Comunque a uno schermo Più grande Capito Madonna È così avanzato Che è più avanzato di così Ma micchia Ma guarda Che il Nintendo 3DS È tanta roba Non è da sottovalutare Cioè Non scherziamo E se spara al muro Prende una persona Fidati Cioè veramente Allora Devi comprarlo Devi comprarlo Arrivo Adonati Ti consiglio Ti consiglio Di comprarlo Assolutamente Oh, facciamo Come fai E no Perché su Fortnite Visto che Cioè Vabbè In 3D Lo sai che c'è la modalità 3D Da mettere il 3DS No? Eh Forse non è neanche nato Quando Vabbè Quando uscite il 3DS Comunque C'è la modalità In alto la levetta Dove potevi mettere il 3D E praticamente il 3DS Era una merda Perché se mettevi il 3D Cioè Facciamo così cagare Che si vede tutto storto E quindi il 2DS Ovviamente si vedeva giusto No? Quindi C'è gente che comunque Giocava da 3D Da 2DS Che era la versione prima E comunque Cioè Si può giocare a Fortnite Con 2DS Gira meglio Così almeno Non ti baghi gli occhi Allora Allora Io Adesso Così Ma così almeno Non ti baghi gli occhi Capito No Compro un 2DS E poi ci gioca forno Voglio vedere se è fluido Voglio vedere se è fluido Io confermo Eh vedi Come io c'è il 2DS No io ho avuto sia il 2DS Che il 3DS No il 2DS No ho avuto il 3DS Vabbè Vabbè Tutto Tutto Sì Sì Ma c'avevo 8 anni C'avevo C'avevo solo la play 5 La play 4 Contento Eh minchia Allora 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 Io giocavo con le auto wheel Fai te Io facevo Io facevo Facevo la collezione Delle auto wheel Se ti interessa No ma la play La play 4 La play va meglio Eh la play forever La play forever Vuoi vedere che ci mettiamo A contro A con Ah Non so più parlare Cos'è che dobbiamo mettere a confronto Dobbiamo mettere a confronto La risoluzione Col 3DS E la play 5 Vedi che vinciamo Ma guarda Guarda che non c'è differenza Minchia Guarda che il 3DS Ha una grafica Molto più avanzata Ma non è vero Non arriva manco in quattro A tappa Vabbè 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 Compro Poi mi fai sapere Vabbè Ok Eh più che altro Cioè se ci moriamo Si vede che sono tutti i player Sempre da 3DS Perché Ah basta Ma vincono sempre loro Vincono Cioè Ma sei tu da 3DS Diverto No frano Non direi cazzate Sei tu Nabbo da 3DS Eh sì Sono proprio Nabbo Io Solo perché giochi da PC Sei forte Ma va Io non gioco da PC Io non gioco da PC Ah no Guarda La mobile Si usi da iPhone 6 L'iPhone 6 Eppure è buono Per giocare a Fortnite Sì sì Con l'iPhone 13 Fai io l'ho Gattis Però con l'iPhone 6 Vabbè Io ho Io ho Il fatto Il 15 Ma con quello Che è appena uscito No Eh L'ho messo a confronto Con il 6 Ma Va proprio bene Il 6 Seva Va benissimo Va Sia C'è un Samsung S19 Dal 2015 Ma Eh ma noi siamo ricchi Ci possiamo permettere L'iPhone L'iPhone E' il forever Eh no no Mi stasso un'ora 12 Io fa 2015 Anche nocchia 3310 Sì Quella è buona Buona Io ci Conosci il bronzo Io ci giocavo al brucomela Ma se cazzo È un gioco che fa 600 fps Era l'unico gioco che c'era su Nokia Aspetta Ma sai perché era l'unico gioco? Perché era l'unico gioco che riusciva a fare 600 fps Ma no Cioè 600 fps significa che va fluidissimo Eh sì Eh sì Infatti andiamo a fredd Fluidissimo Infatti Infatti Inmica si pagava Per prendere le mele No Problema Non riesce a vincere più una partita Ah Aspoltate a me Prendetemi 3ds E le vincitate tutti Dai raga facciamo Niente tu devi insistere con sto 3ds Allora 3ds io con A Con A è di tu Le freccette per ballare Trova gente Allora sei proprio Un grande pro player Traccato 40 Ma cosa crassi? No è molto Ma cosa cazzo Cazzo che rompe coglioni Ci pushano Speriamo che non giocano da Nintendo per favore No mi han cecchinato No Sai perché? Sai perché? L'abbiamo già detto L'abbiamo già detto Non voglio ripetere Perché sono da 3ds Cioè non sono da Nintendo 3d Sero da Nintendo 3ds Non mi cecchinavano Quando ci scommettevi Però adesso se facciamo 1v1 Facciamo 1v1 Sai perché perderai? Perché? Secondo te Perché? Perché sei da pc Ecco perché perderò No perché non sei da 3ds Eh se ero da 3ds Vincendo tutte le partite Ti compri la Nintendo di resto Va bene adesso Ma io sono morto Sai perché sei morto? Perché? Perché non sono da... Ecco Ah poi il Nintendo mi ha regalato Quest'arma mitica Quando c'è entrato Eh vedi? In tutti i game Qualcuno mi viene a prendere Io penso Se c'avevi a Nintendo venivo No sai perché? Perché? Eh Se c'avevi a Nintendo venivo Ah infatti No Che anno sei Simo? Eh su 13 anni No E quindi? Che anno sei No Sono Del lungo 2011 2001 2000 2015 No secondo me 2004 2004 Ah 2004 Ok Raga sono morto di safe No 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 Eh si sono morto di safe Ma usa il medico Ma c'è il nome Medico Come lo chiami tu Ah beh tanto avete vinto Siete 4 v1 Esiste Sono troppo forti Raga Sapete perché? Per quale motivo? Perché siamo da Nintendo 310 Eh ma io non so